insomma la prudenza è sempre necessaria però insomma vabbè dai era una festa possiamo permetterci di fare come dice Cotarelli Cotarelli è uno rigoroso di numeri prego adesso possiamo permetterci di fare qualcosa che non potevamo più fare perché abbiamo i vaccini questa è la cosa positiva ovviamente è stata una grande gioia per tutti 53 anni io avevo 14 anni quando abbiamo vinto gli europei l'ultima volta poi abbiamo vinto un paio di mondiali però il campionato europeo è sempre stato particolarmente ostico per qualche motivo siamo tutti felicissimi tutti grati alla nazionale di calcio per questa gioia che ci hanno dato oggi vogliamo parlare di calcio